Un'altra settimana è passata senza scosse alcuna, l'unica data segnata in rosso resta quella di lunedì quando alle 16 il collegio di garanzia del CONI dirà la sua in merito al ricorso presentato tra gli altri dal Foggia contro l'ammissione dell'Ecco al campionato di Serie B e perlomeno fino a quel momento non ci saranno altre novità in casa rossonera dove va ancora ufficializzato il direttore sportivo al momento in pectore lavora Emanuele Belviso e deve essere ancora scelto l'allenatore. Dietro la calma perlomeno apparente qualcuno ipotizza possa esserci anche la necessità di attendere gli eventi e i possibili sviluppi societari visto che Canonico attenderebbe l'offerta degli imprenditori locali Salandra e la Torre che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto dicendosi interessati a rilevare le quote del Foggia anche se a condizione che il club sia liberato da ogni forma di controversia giudiziaria e proprio giovedì in Sardegna precisamente a Cagliari è stato avvistato Antonio Salandra che ha peraltro avuto modo di confrontarsi con l'ex presidente del Foggia Roberto Fellica il quale sembrerebbe che da qualche giorno abbia ripreso ad informarsi sulle vicende del club rossonero e c'è persino chi ipotizza una sinergia tra Salandra e Fellica con quest'ultimo che sarebbe pronto a rimettersi in gioco magari avvalendosi di un fondo sullo sfondo c'è però Nicola Canonico che continua a tenere il pallino in mano e attende che chi è realmente interessato al Foggia muova passi in tal senso ciò che appare tuttavia certo è che non ci sia tanto tempo per attendere in un modo o nell'altro c'è una nuova stagione che andrà organizzata e dalla prossima settimana andrà fatto necessariamente Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!